Proseguono i lavori sulla via Ruggero I, alle mie spalle, il cantiere per la realizzazione di un canale scatolare. Entro la fine della settimana in corso potrebbero essere ultimate le opere su questa corsia. Si procederebbe poi sulla corsia opposta. Si manterrà il senso unico alternato, nonostante la presenza dei semafori il traffico è piuttosto scorrevole. Non si verificherà più la chiusura totale dell'arteria in ambedue i sensi di marcia, fatto che ha creato non pochi problemi. I percorsi alternativi consigliati prevedono l'imbocco di via Vescovado, Annunziata, Frazione Tagliaborse, per chi proviene o è diretto ai paesi pedemontani, e di via Libertà Riposto oppure Fondachello di Mascali Riposto per le destinazioni in direzione di Catania o di Messina. Ai semafori intanto compare chi chiede l'elemosina.